Ecco, brevissimamente parlavamo prima con Amedeo Pomiglio dei molti giovani che ci sono, la canottieri Napoli dei giovani è andata a vincere a Trieste, vediamo le interviste di capitano e allenatore, un genovese tra l'altro, velocissimamente così chiudiamo questo giro a Bordovasca, cambiamo semplicemente piscina. Sì, purtroppo una brutta sconfitta perché questi sono tre punti che dobbiamo fare in sconfitta, soprattutto se vogliamo fare uno step rispetto all'anno scorso, abbiamo preparato la partita, l'avevamo preparata bene, eravamo pronti, troppi errori, molti errori, poca lucidità nei momenti importanti, purtroppo è andata a vincere. C'è l'amarezza della sconfitta, non bisogna dimenticarsi che questi l'anno scorso sono arrivati quarti in Serie A 1, noi siamo arrivati in Paz e oggi siamo stati tutta la partita insieme a loro, quindi è una brutta sconfitta, fa male, però dobbiamo prendere anche gli aspetti positivi. Bene, auguri alla Palamoto Trieste, piscine piene alcune, altre vuote, personalmente, non so se tu la pensi in questa maniera, vedo come piscine piene quella di Trieste, quella la Manara di Gusto Arsizio, la Monumentale di Torino, personalmente vedo che c'è gente dove la società propone un evento, dove dietro ci sono società che lavorano sotto questo aspetto. Qui in Liguria, insomma, la ProReco per avere pubblico deve andare probabilmente a Genova nella Coppa dei Campioni, ad Albaro o in casa, insomma, latita un po', eppure offre lo spettacolo più bello del mondo. No, sono paradossalmente quelle più giovani, hanno energie fresche e si vede chiaramente che c'è un lavoro dietro, perché loro devono avere un lavoro dietro per portare gente alle piscine, sono nuove, hanno energie, si strutturano, vivono anche in città dove si lavora professionalmente, il problema è che ce ne sono altre che non lavorano nello stesso senso, l'unione e la continuità sono due problemi, perché i picchi magari di ascolto, le piscine piene, siamo stati capaci, la prova noi abbiamo che le piscine siamo in grado di riempirle, questa dice magari se non si riuscisse a riempire mai, quando si vuole, alla fine si fa, se si fosse strutturati con un settore di comunicazione che lavori continuamente, in maniera continua, quindi si tratta di fare un investimento, ma di sicuro reintegro da parte di tutti, quindi avere anche un format comune che possa dare un indirizzo per migliorare l'immagine del nostro sport, sarebbe una cosa molto buona, anche perché il fatto della TV non è uno che non ci sia più la TV, non è uno schiaffo della RAI, è una fotografia che la RAI ha fatto, che noi abbiamo avuto abbastanza secca di qual è la rispondenza, di qual è l'audience del nostro sport, senza TV secondo me, al giorno d'oggi tutti gli sport vanno verso la TV, la TV è immagine, quindi lo streaming secondo me è un supporto utilissimo che può essere sicuramente di aiuto, ma la TV è una cosa fondamentale, ti dà immagine. Forse mi sono dimenticato del quinto, è un'altra piscina completamente piena, da parte vostra è merito del lavoro societario, di marketing, come diceva Medeo, o è semplicemente l'entusiasmo di questo straordinario risultato raggiunto? Beh, ha ragione assolutamente a Medeo, le società, quando sei neopromosso, quando arrivi in una categoria, comunque i primi anni l'entusiasmo sarebbe strano se non ci fosse entusiasmo, poi dopo quando tu arrivi a un determinato risultato e non continui a migliorarlo, è chiaro che l'entusiasmo tende a scemare. Da parte nostra, a Bogliasco avevamo già sempre anche in A2 un discreto seguito, la scelta di andare a giocare ad Alvaro ovviamente è legata a una scelta societaria, siamo la squadra di Genova e quindi era giusto che giocassimo a Genova, Alvaro è una piscina difficile perché è molto grossa, sicuramente abbiamo lavorato per renderla una piscina colorata e con iniziative come la chiusura di un lato, dove abbiamo lasciato spazio per tutti i cartelloni pubblicitari e gli sponsor e quindi concentrare poi il pubblico sugli altri due lati, credo che sia stata una scelta vincente, oltre comunque tutta un'attività fatta con i social, attraverso gli sponsor, attraverso gli attenti giovanili che viene fatta costantemente e che sicuramente dovrebbe essere migliorata e cercheremo di migliorarla, è chiaro che poi anche lì i risultati della squadra trascinano comunque il pubblico, quindi un quinto che riesce a giocarsi la salvezza con le altre sicuramente crea entusiasmo e gente che ci viene a sostenere, ripeto anche non solo addetti ai lavori o genitori di atleti che giocano, un quinto che invece dovesse incontrare tante difficoltà e chiaramente farebbe un po' scemare l'entusiasmo, quindi la palla ce l'abbiamo in mano noi. Noi andiamo adesso a parlare lentamente e progressivamente di Prorecco, perché in settimana ci sono state due presentazioni, Prorecco e Camogli, una campionato iniziato, l'altra da iniziare, ci soffermeremo sui bianconeri la prossima settimana, vediamo invece quello che è successo a Recco, un po' di palanuoto, molto calcio. E' un trio d'eccezione ad interpretare la canzone simbolo di Genova. L'ex finanziere Giampiero Fiorani, ormai ufficializzato come braccio destro di Volpi in Nigeria e a Recco, Eraldo Pizzo, vicepresidente e Gabriele Volpi, che confessa di amare più di tutte la storia musicata del vecchio migrante genovese, che realizza fortuna all'estero ma che poi, da anziano, ritorna a Genova. Situazione nella quale Volpi confessa di identificare la sua storia. E' l'epilogo della presentazione di Prorecco, edizione 2016-17, nel locale Event Beach, accanto a Punta Sant'Anna, destinato a creare uno dei cardini del complesso polivalente della zona, versione Prorecco, e affidato in gestione al potente ex finanziere. Per completare la quadratura del cerchio, però, manca ancora la piscina. Il sogno mio, e penso che sono riuscito a realizzarlo, è di avere un allenatore dal presidente, avere due vicepresidenti di Recco, un allenatore che volevo da quattro anni, purtroppo a tentennato un po' mi è venuto, e creare la piscina dove io, 70 anni fa, iniziare a nuotare, in mare, e non è giusto che Recco, con tutto quello che ha vinto, non abbia la piscina per giocare qui. Ma non solo per la prima squadra, ma soprattutto per creare i giovani che non avendo la piscina non abbiamo. Poi, a livello societario, Recco è sempre Recco. Da quando ho giocato io, dopo questa assenza di otto anni, ho trovato sempre il solito Recco. Però, ecco, io spero che fra qualche anno, magari anche l'anno prossimo, di portare la Pro Recco, di allenarsi a Recco, di tornare a Punta Sant'Anna, di tornare a lavorare nella casa nostra, di portare anche i ragazzi giovani, tutte le squadre giovanili ad allenarsi a Recco. Tanto mondo del calcio al vernissage bianco-celeste, questa volta presentato a campionato iniziato. Fatto inconsueto, ma quando si tratta di Pro Recco, questo sport fa scuola ad un mondo pur milionario come il calcio. Noi dobbiamo solo imparare da Pro Recco, perché è una società che ha vinto tutto, quindi c'è solo da rendere omaggio a una realtà importantissima dello sport italiano. Si fatica più nel calcio o nella pala nuoto, ad allenarsi? Io non ho mai, ho provato una volta a un villaggio, a fare una partita e stavo morendo, quindi credo che, però è anche vero che poi quando ti alleni ti abitui. Beh, che comunque facciamo i complimenti alla Pro Recco, perché i sacrifici loro li fanno veramente, perché gli allenamenti sono duri, sono massacranti, anche i nostri, magari gli allenamenti sono duri per certi versi, ma mai quanto quelli di loro, quindi poi è bello vedere dei campioni che vincono, perché loro vincono tanto e quindi bisogna imparare da tutti. Strette sinergie radicalmente liguri, presidente Rechelino, vicepresidenti liguri, nel consiglio direttivo anche il presidente dell'Entella, Tonino Gozzi, Maurizio Felugo, chiavarese doc e molto vicino a Y-Lab, la creatura di Gozzi, insomma una tigre cavalcata da molti. Che risponde? Beh, è stato un complimento che francamente ci ha fatto piacere, perché è stato sincero, perché lui conosce attraverso Maurizio Felugo, che è un chiavarese, la passione e la dedizione che a Chiavari mettiamo sul gestire dell'Entella. Effettivamente, io dico sempre che la soddisfazione dell'anno scorso è che eravamo i quindicesimi in Permonte e in Gaggi e siamo finiti i noni. Dobbiamo soltanto ammirare quello che stanno facendo i ragazzi, sono molto felice per Maurizio Felugo, che dopo essere un grande campione sta portando avanti come presidente tutto questo progetto, soprattutto si sta anche rivolgendo con l'Academy ai giovani, io in questo sono molto chiaramente vicina e chissà che non ci sarà una sorpresa al torneo Ravano, come ho già detto, per cui per me la palla nuota in questo momento è uno dei top sport. Amedeo, parliamo un po' della tua esperienza a Recco, nel senso che molti hanno interpretato quest'anno quasi come fallimentare semplicemente perché non siete riusciti a vincere la Coppa dei Campioni a Budapest con mille scusanti prima di tutte i tempesti che non c'era e che fa il 50% della squadra. Viceversa vedo che la Gazzetta dello Sport in questi giorni premia alla Pro Recco come una delle rivelazioni dell'anno 2014-2015. Qual è la realtà? Secondo me, se voi il mio punto di vista arrivaste intanto, avete vinto tre titoli importanti come il campionato, la Supercoppa e la Coppa Italia, da non dimenticare. A Budapest con un ragazzo in porta molto giovane è già stato un miracolo che la squadra per quattro volte si è riuscita a reagire picchiata a freddo da quelle due reti di Jokovic all'inizio e arrivare fino ai rigori. Tu come la vedi? Perché la festa che c'è stata alla fine del campionato è stata una festa che obiettivamente sembrava un funerale di terza classe per una squadra che invece ha dettato legge tutto l'anno. Io devo comunque riassumere un anno intero dove sono rimasto sicuramente impressionato positivamente dall'impegno e dalla professionalità dei ragazzi che sono stati in grado di mantenere la forma non solo per il campionato, per la Coppa Italia, per la Coppa dei Campioni, per l'Europeo, per la qualificazione olimpica e per le Olimpiadi. Io ne parlai a loro a settembre, gli dissi chiaramente se volete mantenere, migliorare e arrivare alla fine in forma dovete cominciare da adesso, si deve cominciare da adesso. I ragazzi mi hanno seguito in maniera esemplare, sono dei veri campioni, tutti quanti, senza esclusione di colpi, con qualcuno che è andato anche oltre, che mi ha impressionato positivamente, tra cui sicuramente Stefano perché l'infortunio l'ha avuto dopo un mese, lui è riuscito a… ma questo solo allenandosi da settembre in un certo modo è riuscito a resistere per un mese senza muoversi. Devo dire chi ha allenato anche la mente, la sopportazione e l'ha trasformata in rabbia perché per esempio Icardi è stato uno che tutto l'anno ha avuto guai fino all'ultimo ed è stato in grado nell'ultima fase, nell'Olimpiadi, di trasformare tutto questo in rabbia, quindi in carattere. Lui è cresciuto mentalmente in maniera esponenziale perché mi ha sorpreso anche la capacità che ha avuto di trasformare il suo setto nasale fratturato, anche attraverso la maschera, quindi anche con intelligenza. In tutti i fattori positivi che hanno dato alla squadra quella forza in più per poter arrivare… quindi tutto questo è nato però da un atteggiamento che loro hanno preso da settembre, i serbi, i croati, i vovic, tutti quanti, quindi su questo aspetto il livello di gioco e lo stato di forma piano piano, nonostante l'europeo, quindi anche la stanchezza, le partite, sono state 80 partite da giocare quindi mediamente una volta ogni tre giorni, quindi il calendario è stato abbastanza anzi anche troppo intenso. Secondo me, ma non devo dirlo io, avevamo un avversario comunque abbastanza anzi ottimo in campionato, che l'ha dimostrato in Coppa Italia perché con il 5 a 4 noi abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi era di primissimo livello che era il Brescia, nell'ultima fase del campionato c'è stata, quello che mi aspettavo dai ragazzi comunque, una qualità di gioco che è cresciuta assieme allo stato di forma, quindi secondo me la finale Scudetto è stata fatta ad un livello molto molto alto. È logico che se poi mi chiedi, secondo te Tempesti, ce lo vorresti o no in squadra? Io ti rispondo di sì, ma Tempesti chi è? Tempesti è il miglior partito del mondo, perché è ancora oggi secondo me l'unico in grado di poterti far vincere la partita. Tant'è vero che la Proleico ha costruito una squadra su di lui? Su di lui. Quindi a questo punto non essendoci lui la squadra è normale che non era più quella, è normale. In questa situazione qui un allenatore che fa, vede e cerca, sapendo che il livello tattico non poteva essere lo stesso, le avversarie erano altrettanti a livello, perché l'Olympiacos, lo Jug, il Solnok sono squadre a livello. Sapevi di non essere, perché quando manca il portiere, di non essere più la più forte, ma per un'ovvia mancanza, alla quale dovevi sopperire, i ragazzi ho chiesto l'anima, ho chiesto doti psicologici, doti morali, sapendo che il gioco non sarebbe stato sicuramente... Quella abitudinale. Quella abitudinale. E dopo la partita, i ragazzi, ho fatto i complimenti, perché loro, questo elemento che gli avevo chiesto, ce l'hanno messo, l'hanno ripresa fino ai rigori, quindi io, da un uomo di sport che accetta comunque anche con l'etica, anche la sconfitta, nella maniera positiva quale deve essere, devo assolutamente dire che mi hanno soddisfatto anche in quelle quattro rimonte che hanno fatto durante la partita, nonostante, come dici tu, in porta non ci fosse tempesti, ma c'è stato un portiere che ha dato il massimo di quello che poteva. non è che... Ed è un'altra parte, per conto, avevamo Pavic, Biaz, quindi insomma, in una certa sproposizione... Sì, è stata la Fania Six dove i portieri hanno parato, quindi non mi voglio assolutamente giustificare, ma è l'evidenza che comunque è un dato di fatto. Poi la potevi pure vincere la coppa, perché alla fine poteva pure capitare, passavi questi due anni, potevi anche andare avanti. Riprenderemo fra un attimo sicuramente questo argomento, ci interrompiamo un attimo per le inserzioni commerciali e fra poco nuovamente con noi, assieme.